Sulla casa grava un prelievo e una sollecitazione fiscale inaccettabile. A sostenerlo il vicepresidente PDL nell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna, Galeazzo Bignami. Riteniamo che la filiera edilizia e dell'immobiliare evidentemente si è esposta a un prelievo e una sollecitazione fiscale ormai inaccettabile. E di questo dobbiamo anche ricordare la responsabilità grave sui governi, che hanno succeduto quelli dei Berlusconi, che hanno aumentato l'imposizione fino a farlo appunto diventare insostenibile. Questo ha paralizzato il mercato, ma ha soprattutto paralizzato la volontà da parte dei cittadini di acquistare un immobile, perché soprattutto per i meccanismi di esclusione dai principi di detrastione e defiscalizzazione, comporta che oggi avere una casa significa di fatto essere considerato una sorta di ricco possidente, quando in realtà si ha spesso attorno alla casa una funzione sociale e di costruzione di un nucleo familiare.